Benvenuti su Dear Flower e benvenuto all'ospite di oggi Michele Di Terlizzi, managing partner di L&B Partners. Ben trovato. Grazie. Con l'avvocato parleremo di mercato dell'energia e in particolare delle rinnovabili. Diciamo che è una questione che oggi come oggi è cruciale, non solo e non soltanto alla guerra in Ucraina che ha portato a un ripensamento della catena dell'approvvigionamento energetico italiano, europeo, ma in realtà anche globale, ma anche perché gli obiettivi di energia rinnovabile e pulita europei sono molto ambiziosi e c'è sicuramente molto lavoro da fare. Quindi la prima domanda è, mercato delle rinnovabili a che punto siamo, che opportunità ci sono di investimento anche alla luce del PNRR e l'M&A che ruolo può giocare? Sì, grazie. Sicuramente oggi penso che nel contesto storico in cui viviamo e ci troviamo, esattamente come giustamente ha citato alla luce anche dell'esperienza, della drammatica esperienza in Ucraina, investire in fonti energetiche non può che significare investire in fonti rinnovabili. Le fonti rinnovabili penso siano realmente la vera alternativa, quindi la transizione ecologica, la transizione verde è sicuramente un elemento imprescindibile della nostra politica di sviluppo industriale. Allora, in termini di mercato, parliamo del mercato italiano, sicuramente oggi l'attrattività del mercato è elevata, anche se per esempio se Ernest Yang annualmente stila un elenco dei principali paesi, una classifica sul grado di attrattività del mercato delle fonti rinnovabili e l'Italia, ahimè, nel 2022 ha perso posizioni, ha perso due posizioni, era al tredicesimo posto, oggi è al quindicesimo posto in questa classifica. Con onestà questa classifica, questa indagine probabilmente risente fortemente dei risultati del 2021, dove i risultati sono stati decisamente non soddisfacenti. Il primo semestre 2022 cominciamo ad avere dei segnali diversi, in termini di velocità e di impianti autorizzati, di progetti autorizzati. Siamo ancora distanti ovviamente dagli obiettivi, però con franchezza devo dire che abbiamo dei segnali estremamente positivi. Oggettivamente abbiamo vissuto per anni un collo di bottiglia significativo, pensiamo alle aste del GSE, dove i contingenti sono stati aggiudicati in misura minimale rispetto a quella disponibile, un terzo, il 20%, il 25%, l'ultima asta, la settima asta, se non ricordo male, rispetto a una potenza superiore a 3000 MW tra fotovoltaico e olicon shore, abbiamo assegnato meno di mille, quindi siamo distanti e questo principalmente perché mancavano progetti, i progetti non venivano autorizzati e quindi non c'erano progetti da presentare. Per realtà invece le proposte ci sono, anche operatori che vogliono investire ci sono. Tantissime proposte e tanti progetti in sviluppo, direi in questo momento ce ne sono tantissimi su tutto il territorio nazionale che aspettano di poter essere istruiti ed avviati. Il quadro normativo con onestà negli ultimi tempi è migliorato, va verso la semplificazione dei procedimenti amministrativi, per cui rispetto ad un'architettura originaria che poi ha fonte nel decreto legislativo del 2003, modificato successivamente, dove ha stabilito un po' l'architettura fondamentale dei procedimenti autorizzativi di questi impianti da fonti rinnovabili, abbiamo avuto una serie di interventi successivi, 2011, ma da ultimo anche con gli ultimi decreti, decreto energia, decreto ucraina, semplificazione. La situazione sta migliorando secondo voi? Beh sì, il problema sicuramente hanno introdotto delle misure, degli strumenti autorizzativi semplificati, che quindi accelerano il processo, evitano quella complessità procedimentale tipica e quindi cercano di accelerare il processo autorizzativo per specie in materia fotovoltaica in funzione delle soglie di potenza piuttosto che della tipologia o della destinazione urbanistica delle aree, quindi oggettivamente realizzare un impianto fotovoltaico su un'area industriale anche di potenza significativa e ragionevole, sottoporlo allo stesso procedimento di complessità in termini di analogo a un impianto, non so, in un'area agricola o in un'area protetta o interessata da vincoli. Quindi tendiamo a semplificare. Ecco, l'ultimo passaggio sulle M&A, ci sono operazioni magari che vedremo quest'anno interessanti, vede una tendenza al consolidamento anche qui, di cui accenavamo prima? Sì, sì, beh, allora, l'M&A anche qui negli ultimi 18 mesi, a parte le operazioni di consolidamento sugli asset operativi, che c'è, c'è stato, ce ne sono alcune in corso, anche importanti, alcune recentemente chiusi. Qui c'è da fare anche una riflessione sul tipo di M&A, noi che assistiamo e quindi operiamo, diciamo, nel segmento M&A, abbiamo notato negli ultimi 18 mesi un po' di… c'è stato un cambiamento del tipo di servizio e del tipo di attività che eroghiamo. Rispetto a un M&A concentrato quasi totalmente su asset operativi, che si caratterizzava per… che si caratterizza tuttora, ma si caratterizzava per un'analisi precontrattuale molto analitica, ovviamente trattandosi di impianti operativi, quindi già autorizzati con diritti immobiliari assistenti, con tariffa assegnata, quindi con tutte le complicazioni di un impianto operativo, richiedeva anche da parte di chi assiste gli investitori un'analisi molto puntuale e molto approfondita. In questo momento c'è un M&A anche significativo sulla parte di sviluppo, per cui gli investitori investono in pipeline di sviluppo, in fonti rinnovabili e quindi anche la nostra attività in parte, come dire, è diventata più di supporto nel processo autorizzativo e quindi nel corso della vita del progetto fino alla realizzazione. Quindi un'analisi potremmo dire più light nella fase precontrattuale, invece una collaborazione costante con l'investitore. In fase di realizzazione, quindi vedremo magari questo aiuterà anche poi nella realizzazione, nella messa in attività dei vari impianti e speriamo insomma questo ci servirà poi per raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati a livello europeo. Intanto grazie mille all'Avvocato Italizzi, grazie a tutti. Grazie a tutti.